Start, 2, 1, Inizio e Liftoff! Non è un Early Access, quindi sviluppato dai Saddle Studios, è un gioco che vanta delle recensioni molto positive, lo proviamo perché è un gioco che secondo me merita nel panorama, diciamo di quelli che definirei dei puzzle game, un po' alla The Witness, comunque vediamo perché è veramente sorprendente, è ora di esplorare. Vedete, si può saltare, che è già una buona cosa, ci sono una serie di dettagli, tipo questa radio trasparente, tanto ci muoviamo la grafica, ricorda molto quella di The Witness, forse un filino più ricca, non c'è anche come interazione in questo caso, ma potremmo andare a interagire con delle immagini, delle foto. In questo caso il gioco ci sta facendo saltare per ricordarci che lo possiamo fare. Allora, praticamente, opa, sono caduto. Sì, sì, tutto bene. I tuoi segni di vita gli sembrano a posto. Suppongo che ora sappiamo che cadere non fa male, perlomeno è una buona notizia, perfetto. Tieni il primo tuo R per riavvolgere. Questa è una cosa molto interessante, perché ci consentirà, qualora noi dovessimo pianificare male un livello, di poterla rifare, insomma. Adesso, vediamo se di qua si può andare. Sì, di qua sì. Ma di qua si poteva. È proprio rotto solo quello di là. Ok, adesso la cosa interessante è che raccogliendo la foto, noi possiamo mirare e andare a posizionarla. Se non conoscete il gioco, non sapete minimamente a cosa stiamo andando incontro. Io ne ho una mezza idea. Possiamo posizionarla qui. E in questo caso abbiamo messo il dipinto lì, che diventa un ambiente tridimensionale. Tra l'altro, la cosa molto bella è che se questa immagine la piazziamo in giù, tutti gli oggetti appoggiati rotolano verso, appunto, la direzione. Ma lo vedremo dopo. E qualora noi dovessimo piazzare male in qualcosa, possiamo riavvolgere il tempo. In questo caso noi abbiamo bisogno qui di alimentazione. E le batterie vanno messe qua. Quindi in questo caso noi possiamo, vedete abbiamo la batteria qui, la possiamo raccogliere, la possiamo posizionare qui, ma credo ne servano tre, perché deve riempirsi del tutto. In questo caso dobbiamo trovare un'immagine. E quest'immagine ci porterà da un'altra parte. Ovviamente, adesso facciamo una prova, giusto per farvi vedere. Metto l'immagine così. Vedete che rotola tutto in fondo. E se noi ci entriamo non torniamo più su. In questo caso la riavvolgo fino al punto in cui io posiziono l'immagine. Ora la posiziono in modo giusto. Magari un filino di salita. Sì, c'è il saltino qui, ma non dovrebbe essere un gran problema tornare indietro. Vedete che abbiamo una scorciatoria. Quindi in questo caso raccogliamo la batteria e la portiamo là. Quindi in questo caso possiamo posizionarla qui. E abbiamo l'alimentazione. Quindi la postazione funziona. E ci teletrasportiamo. E andiamo avanti. Un po' sullo stile di The Talos Principle e simili. E via via si andranno ad aggiungere sempre nuove meccaniche. In questo caso abbiamo, vedete, possiamo ruotare la visuale. In questo caso la mettiamo giusta così. Vorrei metterla in un punto abbastanza agevole. La metto qui. Così che confina perfettamente. Possiamo andare a vedere che qui ci viene richiesta una batteria. una batteria che presumibilmente noi dobbiamo andare a piazzare qua in questa zona. Quindi io in questo caso creerei questa zona qui così. Ok. E ho messa così. Vediamo se riusciamo a tornare indietro. Ma dire di sì. Abbiamo la batteria che ci serve. Che ovviamente questa è una cosa bellissima. È in bianco e nero e resta in bianco e nero. Anche se siamo nel mondo a colori. Raccolta la batteria. Ci teletrasportiamo. Andiamo avanti. Però. Ok. Andiamo qui. A rivisita livelli. Questo posto sembra decisamente diverso da ciò che abbiamo visto finora. Ok. Sembra che qualcuno si sia davvero stabilito qui. Davvero bello. Vorrei poter essere di con te. Ok. Teletrasportati al prossimo livello. Perché di là possiamo tornare ai livelli precedenti. Ma in questo caso andiamo a livello successivo. Non so dirvi purtroppo la durata dell'avventura. Generalmente avventure di questo tipo durano una manciata di ore. Di solito. Poi se qualcuno di voi l'ha finito. E gli va di dirmi un pochino com'è andata. Insomma mi faccia sapere. In questo caso no. Direi che. Dobbiamo posizionarla in un modo un po' più intelligente. Tipo. Usando la prospettiva. Cioè. Noi abbiamo. Questo luogo qui. Se noi la piazziamo qui. Vediamo. Abbiamo messo il ponte qua. E quindi possiamo andare di là. Adesso. È andata completamente a culo. Perché non è quello che volevo fare. Comunque. Siamo arrivati qua. Qua ci sono. L'ora del te è stato un successo. Valutare l'idea di codificare foglie di te migliori. Ok. Qua abbiamo un'altra immagine. Con un. La mettiamo qua. Però qua. Potremmo incastarci. Perché. Ricarichiamo. Ok. Devo metterla in un punto. Dove dobbiamo comunicare. Con qualcosa. Quindi. Ah di là. Ok. Perfetto. Lo mettiamo qui. Così possiamo andare di qua. Eh ma di qua non c'è niente. Mannaggia. Saltando qui. No. Direi di no. Di là non comunica. Quindi proviamo a tornare indietro. Torno indietro. Ok. Torniamo di là. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo vedere. Esplorare. Eh perché. Mannaggia. Non. Non c'è modo di. Saltando qui magari. Vediamo. Me la fa mettere qua. No. Dobbiamo. Dobbiamo raggiungere quella parte là. E di qua non credo. Noi ci possiamo andare. Quindi ricarichiamo. Cercando di andare un po' più velocemente. Ok. Devo capire dove metterla adesso. Questa parte. Soprattutto. Dove dobbiamo andare. Perché se noi dobbiamo andare di là. Posizionarla. Qui. Potrebbe essere sbagliato. Perché di là. Non c'è assolutamente nulla. Ci avviciniamo solo. A quella zona lì. Quindi torniamo in da io. E devo pensarci un attimo. Devo pensarci un attimo. Assolutamente. Perché di là non si torna indietro. Forse mettendola lì. Il teletrasporto è stato distrutto. No. Torniamo indietro. Perché è stato distrutto? Perché c'è un teletrasporto lì. Torniamo indietro. Stiamo andando. Stiamo già in crisi. Già assolutamente in crisi. Perché di qua non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Dobbiamo poterla piazzare. Qua non possiamo. Vedete che è stato distrutto. Non è il posto giusto. Ma probabilmente. Non vorrei fosse sbagliato anche questo punto qui. Però vediamo. Perché di qua non c'è niente. Qua non c'è assolutamente niente. C'è qualcosa. Un pannello solare qui. Ma non. Beh o forse sì. Eh sì. No. Ok. Vediamo se riusciamo ad andare di là. No. Ah no. Ma non c'è niente. Non c'è assolutamente niente qua. Se la metto lì. Non mi fa fare niente. Perché arriviamo qua. Però. 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 Non è così malvagia come idea. Torniamo indietro. e cerchiamo di capirci qualcosa. Inizia a diventare più ostico. Più ostico di quello che pensavo. Allora. Se io la cosa la metto lì. Non riesco a saltarci. Perché non ci arriviamo. Metterla un po' più vicina forse. Metto qui. Che è più vicina. Anche se non credo di riuscire. No. No. Ma è tutto troppo. È tutto troppo. Ho buttato lì un po' così. So che voi. Probabilmente guardando il video. Vi state già sbracciando. Dicendo. Ma no. Non lì. Là. Ehi. Purtroppo. Forse qui. È troppo. Così. Questo è già qualcosa. È già qualcosa. Premendo due volte torni indietro più rapidamente. Facciamolo così. Caspita. Saltiamo qua. Saltiamo là. Saltiamo qui. Andiamo di là. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Con non poca fatica. Però devo arrivare là sopra. E là sopra non ci arriviamo. Magari c'è una superficie che puoi utilizzare per salire lassù. Eh sì. Ma mi piacerebbe capire quale. Il ponte. Eh no. Possiamo arrampicarci qua no? Eh purtroppo no. Raccolgo la paparella. Ah sì. Sono vabbè. I collezionabili. Si può saltare. Ma non si arriva su. No. Purtroppo. Purtroppo. Non interagisci. Interagisci. Aha. Ok. Possiamo usare la superficie di questo grattacielo qua per salire. Ma come? E' interessante ma non così tanto perché voglio posizionarlo qua più in basso. Vediamo. No qua si 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 precipita. Ma il cavolo lo mettiamo qui? No qua. Perché non mi fa scalare sta cosa. Quindi no. No. C'è se io. Ah. Ok. Sì. Fantastico. Bellissima. Bellissima idea questa. A parte che sono un completo inetto. Ma bellissima. Non si può saltare qui ma posso saltare da questa. Perfetto. Ci arriviamo. Ci arriviamo ragazzi. E' stata veramente estenuante questa. Questa l'abbiamo diciamo vissuta insieme. E niente. Poi siamo tornati un po' alla normalità. Ci mancano due batterie. Poi il livello di dettaglio è veramente ottimo. Però dobbiamo capire adesso come recuperare queste. Mi va via la voce. Queste cose. Allora. I cieli del nostro futuro sono luminosi. Raccogli foto. E io cosa ci faccio con questa? Scusami eh. Micrea. Ma se io facessi così. Mi hai eliminato totalmente il. Se io lo facessi solo in parte. Tipo così. Eh sì. Eh sì. Il problema è. Se questa cosa deve intersecarsi con qualcos'altro. Potrebbe diventare un problema. Però qua abbiamo qualcos'altro. Più di una ne abbiamo. Posso scegliere quale usare. A ruota. A linea. Posso scegliere quale foto usare. Perché a me manca una batteria eh. Vediamo se la metto qui. Ah mi fa vedere l'entrata. Bellissimo. Però qua non c'è niente. Quindi no. Torna indietro. Veloce. E vediamo se troviamo sta batteria. Non so come scegliere. Ah la Q. Ok. Questa è in verticale. Se la piazzassi qui. Eccola lì. La batteria era nascosta qua dentro. Oh no. È caduta sotto. Perché ovviamente non è che la potete far passare attraverso i muri. O attraverso gli oggetti. Se intersecate qualcosa. Bello. 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 E ci teletrasportiamo. E vive. E vivo. Ragazzi. Io non ho intenzione di fare un video molto lungo su questo titolo. Perché. Deve essere ovviamente scoperto con calma. Eh. Allora. Il discorso prezzo. È alto. Ma. Data la genialità. Data la natura indie del gioco. Potrebbe anche valerli. Ovviamente. È dedicato a chi ama giochi di questo tipo. Chi ha perso giorni e notte con The Witness. E giochi simili. Io. Premio di questo gioco. L'originalità. Il fatto comunque dell'interazione. Di. Di questo. Di questa cosa. Se io lo metto così. Dovrebbe cadere tecnicamente. Io entro lì. No. In questo caso non cade perché. È un oggetto statico. Cioè. È un oggetto con la foto. Quindi quello non lo. Non lo possiamo perdere. Però tutto quello che è. Il resto. Sì. Allora. Io posso piazzarla. F al linea. E la metto lì. Quindi mi diventa una sorta di gradino. E posso creare un loop infinito. Di cose. È Inception questo. Stiamo andando che è leggermente in discesa. Quindi devo piazzarlo più in alto. Stabilizzazione del paradosso fallita. Quindi. Non mi fai più andare avanti. Mamma mia che genialata sta scena. No. Che cos'è? Che cos'è? Che stanley parable. Interagisci. Chi lo aveva mai detto. Sarebbe stato così complicato. Che mi metterla in funzione. Tecnologia antica. Guarda. E beh. Questo è un plot twist. Perché poi si va avanti di qua. Livelli di ossigeno. Mamma mia. È tutta una simulazione. È il gioco. È tutto tradotto. Tutti i documenti qui. È bellissimo. E poi si va avanti. E probabilmente si interagirà con. Sempre più cose. Sono in server. Non so cosa devo fare. Per il pulsante. Laboratorio B. I errori rilevati. Ok. Ho riattivato tutti i sistemi. Sì. Io in realtà volevo chiudere dopo questo. Dopo questo plot twist. Perché. Ci rimettiamo all'interno. E andiamo avanti con questo esperimento. Di questa tecnologia antica. Come dicono. Ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo viewfinder. Secondo me. Un po' meritare i 24 euro. Se siete appassionati. E volete premiare. L'originalità degli sviluppatori. Attendo. Trepidante. I vostri commenti qua sotto. Io vi saluto. Vi ringrazio. E vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima. E ciao ciao.